Michael, quando sei uscito il pubblico si è arrabbiato, vuol dire che il pubblico ti vuole bene, il pubblico del Chievo, partiamo da qui. Sì, è la scelta del mistero. Siamo una squadra e dobbiamo sempre stare insieme. Penso che per tutti oggi non è stato il nostro migliore match, ma penso che la cosa più importante è andare in avanti e preparare un match molto importante. Avevi un problema fisico, eri stanco o è stata una scelta del mistero? Quando sono in campo ho sempre provato di dare il mio migliore per il team e per tutti. A volte è la decisione del coach, non è un problema. Come ho detto, un team, tutti sono pronti per giocare, ora dobbiamo andare in avanti. È troppo pesante il risultato di 3-0 per la Lazio secondo te? Anche, magari. Per me, oggi non spog� אנחנו stavamo bene, ma anche non stavamo male. Abbiamo fatto un gol in prima fase, magari un po' un lato, ma non stavamo scelto. In la seconda fase, noi stiamo cercando di 1-1, in fine magari un po' delle scelte e sono stati capito per la seconda e la thirda. Grazie.